Il Comitato Politico Nazionale di Rifondazione Comunista al termine del Congresso Nazionale del Partito che si è concluso ieri a Spoleto ha eletto Maurizio Acerbo come nuovo segretario nazionale di rifondazione pescarese classe 1965. Maurizio Acerbo è stato deputato, consigliere regionali in Abruzzo e comunale a Pescara, componente della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista ed è da sempre attivo nei movimenti e nelle lotte sociali e ambientaliste. Prima Bertinotti, poi ci sono stati altri segretari, adesso Acerbo. Quali sono le differenze? Allora eravamo un partito presente in Parlamento molto forte, adesso siamo una piccola formazione però che ha resistito perché noi siamo da nove anni fuori dal Parlamento, siamo usciti da quasi tutte le regioni perché abbiamo scelto di non allearci sostanzialmente col PD perché abbiamo anteposto alla coerenza delle nostre posizioni, l'abbiamo anteposta alla convenienza. Credo che abbiamo fatto bene, è stato necessario per ricostruire un profilo di credibilità della sinistra, adesso lavoriamo per unire tutta la sinistra che c'è in questo Paese in alternativa al PD e al centrodestra perché in Italia oggi ci sono politiche antipopolari che fanno gli interessi di pochi mentre c'è un impoverimento generale, quindi noi lavoriamo per la costruzione di un soggetto unitario della sinistra che unisca possibile sinistra italiana, rifondazione, i movimenti, le esperienze come quella di De Magistris a Napoli, gli ambientalisti, cioè tutti coloro che si occupano e difendono i beni comuni e i diritti di chi sta in basso. C'è una differenza con Fausto che io quando sono stato eletto per quel breve periodo in Parlamento proposi subito una legge per dimezzare lo stipendio ai parlamentari e consiglieri regionali e oso dire che se Fausto mi dava retta forse sarebbe oggi un po' più popolare tra i cittadini.